Una staffetta fotografica per dare voce a tutte quelle donne vittime di abusi che ancora non hanno trovato la forza e il coraggio di denunciare. È l'iniziativa voluta dal Consiglio regionale del Piemonte in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Un invito ad uscire allo scoperto mostrando il proprio viso, come hanno fatto le 20 donne piemontesi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e della politica che a Palazzo Lascari si hanno prestato il loro viso per dire che spesso a parlare di violenza e di abusi è proprio il volto delle donne. Noi donne comunque siamo sempre convinte che riusciremo a cambiare, a far cambiare la persona che ci sta vicino e che ci aggredisce e questo è il mio appello che mi sento di dare. Chi è vicino a una persona che usa violenza psicologica e fisica deve scappare perché la violenza è una patologia gravissima, una piega sociale, una malattia dell'anima, una malattia del cuore, è una brutalità ignobile che noi donne non dobbiamo accettare. La violenza sulle donne è un vero e proprio problema di salute pubblica perché ha un impatto importante non soltanto sulla salute fisica ma anche su quella psicologica, sessuale e sociale. Ha degli impatti a 360 gradi, basta pensare a tutto ciò che può conseguire ad aver subito un episodio di violenza, quindi dolori cronici, aborti, gravidanze indesiderate, patologie di vario genere. Sono contenta di aver potuto rappresentare come testimonia questo progetto del Consiglio regionale, è un argomento molto importante e delicato da affrontare. Io personalmente non ho avuto caso di violenza psicologica o fisica ma in ogni caso spingo e invito la gente, chi ne ha sofferto o ne soffre ancora, di denunciare il fatto. Una battaglia che va combattuta tutti i giorni dalle famiglie e dalle istituzioni per insegnare a uomini e donne di tutte le età una cultura del rispetto capace di porre un argine alle discriminazioni e agli abusi. Questa giornata deve essere lo specchio per tutto l'anno e per tutte le giornate dell'anno così che gli uomini e le donne abbiano la possibilità di aumentare il loro rispetto gli uni con gli altri. Purtroppo i dati non sono confortanti. Dall'inizio dell'anno 94 vittime, morte di femminicidio, una piaga sociale che non tende a ridursi. Io credo che continua ad essere un problema culturale. L'attenzione va spostata del tema sugli uomini, sono loro che ci possono aiutare. Il compito della politica per stare al fianco delle donne vittime della violenza è quello di mettere in campo più soldi per i centri antiviolenza, più soldi nella prevenzione e nell'educazione culturale dei nostri ragazzi, più soldi per i servizi di appoggio alle donne, quindi sia per la maternità sia per accudire i loro figli anche in autonomia quando i padri sono violenti. È importante partire dalle generazioni di ragazzi e ragazze perché questo è un cambiamento culturale che va attuato tramite i giovani, perché non si tratta di una emergenza, i dati parlano chiaro, si parla di un problema strutturale che va affrontato con azioni solide e consolidate partendo dalla cultura nei giovani e nelle giovani. Nessuna violenza, nessun eccesso di violenza può essere considerato amore, la violenza non è amore e quindi bisogna fare molto, bisogna fare una lotta, una lotta di civiltà, educare al rispetto reciproco tra uomo e donna, soltanto così potremo raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo posti. Oggi abbiamo promosso, abbiamo annunciato per la prima volta la nostra volontà di istituire un centro, uno sportello antiviolenza sia presso l'URP del Consiglio regionale del Piemonte di via Arsenale, sia presso gli URP della Regione Piemonte di tutte le province che compongono il Piemonte. Un progetto che porteremo avanti attraverso, e questo è l'auspicio più grande, un protocollo d'intesa sia con l'ordine degli avvocati che con l'ordine degli psicologi, in modo tale che ci siano dei professionisti del settore che gratuitamente metteranno il loro tempo a disposizione per tutte le donne, per tutte le famiglie che vivono questo bruttissimo problema nella loro vita.